loke si vedi che lui va troppo da te loke dentro dentro sotto ginocchio 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 bravi piano piano si vedi che sei stanco ricupero ecspirazione ciao amico grazie djepp 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 a lunga bene braccia sinistra vedrai che lui non passa bravo dai sinistra destra low sinistra destra low più stretto più stretto braccia gometti giù avanti pek pek tutto avanti non butta braccia troppo largo mire non abbassare braccia avanti e subito gamba low bravo ancora super recupero stai in ecspiriamo un po' miri stringi stringi braccia miri si vedi che lui è basa subito tun bravo gamba gamba low djepp 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 si vedi che sei stanco a lunga sinistra bravo così ancora dai perché sei andato e non lavori con braccia subito pack braccia braccia piano ancora 30 secondi braccia braccia non abbassa bravissimo sinistra subito bravo difesa difesa gamba braccia così super vai indietro un po' ricupero 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 lo tieni a distanza così non arriva ogni tanto mostra braccia per l'antonario avversario così bravo vedi lo tieni a distanza subito rispondi piano 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 ginocchi piano solo low usiamo ancora 15 secondi ancora 10 secondi resiste o stai solo in difesa braccia su stop bravo